popolo rosso nero amici di youtube ora vi chiedete perché c'è il benzinero anche in vacanza è sempre incazzato normale raga come fai non essere incazzato io riguardavo ennesima situazione che si fa fatica a rinnovare dopo io raga sono convinto che rinnoverà sicuro è però che si non rinnova di bala rifiuta il rinnovo e dite voi chi se ne fotte anche io dico chi se ne fotte fino a un certo punto quando si parla di certe cose comunque non me ne fonte anche a me anche perché i gobbi ci hanno preso per il culo per donnarumma salanoglu vedrete che o accontentano il giocatore cioè gli danno 10 milioni a noi secondo me di bala non ne vale più di 6 o se no a zero e allora io dico siete sicuri che il male del calcio è la superlega poi in più ma come ceferin dove sei ora in questo momento tu che dici che il calcio è del popolo dei dei cittadini dei tifosi dove cazzo sei finito perché perché i giocatori oggi di stare nei club negli anni non ne hanno non ne hanno la voglia guadagnano molto di più a cambiare aria i procuratori non sono felici di fare i rinnovi ai giocatori ma zero non sono per nulla felici perché tanto cosa gli conviene di più mandarli via a zero prendono come minorai 20 milioni poi raga non non stiamo lì a nasconderci di quei 20 milioni almeno 5 vanno al giocatore quindi sono tutti d'accordo tutti contenti il signor de zerbi io non gioco col milan perché superlega i tifosi il calcio dei tifosi poi se ne è andato via allo Shakhtar Donetsk perché gli davano i cash oggi non parli più non parli di queste cose che i giocatori non rinnovano non rispettando i loro tifosi perché se di bala se ne va a zero guadagna un sacco di più il suo procuratore guadagna un sacco di più ma il calcio del popolo de zerbi ceferin che voi tanto professate che fine ha fatto non vedete che i giocatori che le società sono ostaggio dei giocatori e dei procuratori non lo vedete o ci avete le fette di salame sugli occhi qui i tifosi a voi non ve ne frega va tutto bene questa situazione a voi va tutto bene non lo so raga ditemi il vostro pensiero anche se di molti di voi lo so ma io odio l'ipocrisia di questa gente odio il mettere in mezzo i tifosi quando vi fa comodo le vostre battaglie ideologiche se ce le avete signor de zerbi signor ceferin usatele sempre perché questa è una battaglia importantissima i giocatori devono essere di proprietà delle società lo dico sempre lo dirò sempre non deve fare comodo a un giocatore e a un procuratore rifiutare il rinnovo del contratto non deve fargli comodo ora raga ve lo dico io come andrà avanti perché io sono convinto guardate che si non rinnova non ha rinnovato intanto i mesi sono passati ormai arriviamo a due settimane dal campionato e dalla fine del calciomercato arrivi è un punto che o firmi per come dice che si quindi vedete società ostaggio o firmi come dice il procuratore di dibala 10 milioni o se no ciao ciao ce ne andiamo quindi va a finire che se vuoi tenere il giocatore e riuscire a venderlo firmi come dicono loro o sennò lo perdi a zero ditemi la vostra sempre forza mina grazie a tutti grazie a tutti